Inizia la contà dei danni per gli incendi e il maltempo che hanno devastato il nord e sud del paese. Settimana prossima le prime valutazioni del governo, oggi l'ultimo saluto alla giovanissima scout che ha perso la vita nel Bresciano. La Crimea tornerà a far parte dell'Ucraina, Zelensky avverte Putin che continua bombardamenti a tappeto, ancora una vittima Kharkiv colpita di nuovo d'essa. Alle vittime innocenti di stragismo, il deferente pensiero della Repubblica e il capo dello Stato Mattarella ricorda la strage di Via Palestra avvenuta 30 anni fa e dice che il piano eversivo della mafia fu sconfitto. Buongiorno dal TG2000, il governo dunque, l'avete sentito, inizia la prima valutazione delle risorse per le regioni colpite da maltempo e incendi. Lombardia e Sicilia in testi, i danni si valutano in centinaia di milioni di euro. Oggi funerali della scout sedicenne morta nel Bresciano. Antonella Mazzateruel. Pensa di mettere in sicurezza il territorio con un grande piano di prevenzione idrogeologica il governo dinnanzi all'alluvione del nord e ai roghi al sud. Oggi nessuna delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute è in allarme AFA in Sicilia. Secondo la protezione civile regionale, tutte le province sono in pre-allerta ma non a livello massimo per il rischio incendi che nei giorni scorsi hanno deturpato l'isola. Sfigurato il suo volto, così l'arcivescovo di Palermo, Monsignor Corrado Lorefice, che dopo aver ascoltato smarrimenti e pianti mentre la città bruciava, ha inviato ai fedeli un messaggio. Sappiamo, scrive Monsignor Corrado Lorefice, che non si tratta di emergenza. La responsabilità di questo disastro ricade sulla politica, su chi ha avuto in mano la cosa pubblica e sulle nostre crepe educative, ma dobbiamo rialzarci in piedi. Intanto, passata la paura, le regioni tirano un sospiro di sollievo e con desolazione fanno la prima conta dei danni. Anche per presentare lo stato di emergenza all'esecutivo, che formalizzerà le richieste la prossima settimana. La prima a farsi avanti è stata la Lombardia, circa 41 milioni e mezzo le perdite stimate, ha affermato il ministro per la protezione civile Nello Musumeci. Ma ci sono anche il Piemonte, l'Emilia Romagna, poi il Veneto, il Friuli, Venezia Giulia, la Sicilia, dove i danni stimati superano i 250 milioni di euro. Prostrati dal lavoro i vigili del fuoco, più di 2.800 i pompieri impiegati in diverse regioni negli ultimi giorni per far fronte a focolai allagamenti. Una foto pubblicata sulla Sicilia nei mortali alcuni sdraiati a terra, stremmati dal lavoro. Piangono i familiari e gli amici di Chiara, la sedicenne travolta da un albero al campo scout nel Bresciano. I funerali della ragazza si terranno a Tevernola, nel Comasco, nel pomeriggio. Il fronte del fuoco intanto avanza in tutto il Mediterraneo, oltre all'Italia, gli incendi divampano in almeno altri 9 paesi, con un bilancio drammatico in vita umana. Dalla Grecia alla Spagna, dalla Tunisia alla Croazia, le fiamme stanno devastando intere regioni dei paesi che si affacciano sul mar Mediterraneo, con un drammatico bilancio di oltre 40 morti. Centinaia di vigili del fuoco ellenici, aiutati dalle squadre inviate dall'Unione Europea, sono impegnati a domare gli incendi sulle isole di Rodi, Corfu ed Eobea, oltre a un nuovo fronte divampato nella Grecia continentale. Evacuate più di 30.000 persone, ed è una corsa contro il tempo, prima che i forti venti alimentino nuovamente i focolai, peggiorando la situazione già critica. Roghi anche nel sud della Francia, in Corsica, dove sono andati in fumo 200 ettari di terreno. Le fiamme hanno minacciato anche tre villaggi. Il sindaco di Marsiglia ha lanciato ai cittadini un appello alla vigilanza. Nelle aree raggiunte dal fuoco sono intervenuti 90 pompieri, tre elicotteri e un Canadair. In Croazia gli incendi hanno interessato la zona sud della città adriatica di Dubrovnik, dove il vento ha rallentato le operazioni di spegnimento. In Algeria si monitora costantemente la possibile ripresa dei focolai dopo gli incendi dei giorni scorsi nel nord del paese. Analoghe attività di controllo in Tunisia, dove sono stati distrutti 100 ettari di bosco. Reintegreremo rapidamente la Crimea nel tessuto statale dell'Ucraina, lo annuncia il presidente Zelensky, mentre continuano a piovere i missili sul paese. Un morto a Kharkiv, nuovi attacchi a Odessa. Marco Burini. Missili, droni, razzi, bombe. È da 519 giorni che sull'Ucraina piovono ordigni di morte. Ieri la contraerea di Kiev ne ha intercettati 36, ma nella scorsa notte il porto di Odessa è stato nuovamente colpito. Almeno un morto. La città sul Mar Nero viene presa di mira sistematicamente da quando Putin ha rotto l'accordo sul grano. L'obiettivo è sabotare le infrastrutture portuali e bloccare il traffico commerciale. Tanto per voi c'è il nostro grano, non preoccupatevi. È il messaggio che il padrone del Cremlino ha mandato ai leader africani che oggi riceve a San Pietroburgo per il forum annuale. Magari capiremo se la tela di alleanze che ha tessuto in questi anni tiene. Se poi l'interlocutore è un dittatore, tanto meglio. Abbondano in Africa come in Asia. Basta vedere il trattamento riservato dalla Corea del Nord al ministro della difesa russo Shoigu, a Pyongyang per i 70 anni dell'armistizio. Ma per il regime nordcoreano, in pieno delirio orwelliano, è il giorno della vittoria. Kim Jong-un mostra tutto orgoglioso i suoi micidiali giocattoli a Shoigu, che dice di voler rafforzare la cooperazione militare. Mosca ha una fame insaziabile di armamenti per continuare la folle impresa ucraina. Da parte sua, Zelensky questa mattina ha visitato il quartier generale delle operazioni a Dnipro, nel sud-est, per fare il punto della controffensiva. Mentre la Casa Bianca fa sapere che i piloti ucraini faranno addestramento sui caccia da combattimento F-16 in Danimarca e Romania, ma si valutano anche altre località. Golpe militare in Niger. I militari hanno rovesciato il presidente Bazouma annunciando la sospensione di tutte le istituzioni, la chiusura delle frontiere e l'istituzione del coprifuoco. Elena Seno. Solo nella notte è arrivato il messaggio delle forze di difesa e di sicurezza riunite all'interno del Consiglio nazionale per la salvaguardia della patria. A loro nome il colonnello Amadou Abdramane, circondato da uomini in divisa, ha annunciato in tv di aver rovesciato il regime, così è stato definito, del presidente Mohamed Bazouma. Sotto accusa la situazione della sicurezza nel paese e la cattiva gestione della governance economica e sociale. Sono state sospese tutte le istituzioni, chiuse le frontiere terrestri ed aeree ed è scattato il coprifuoco dalle 22 di sera alle 5 del mattino. Di fronte alle prime notizie ieri del golpe, i sostenitori del presidente Bazouma alla guida del Niger dal 2021 sono scesi in piazza e hanno cercato di avvicinarsi al complesso presidenziale ma sono stati dispersi con colpi di avvertimento. Stamane la situazione sarebbe calma a Niamey. La popolazione attende di vedere l'evoluzione del colpo di Stato, non è il primo nel paese. Europa, Stati Uniti ed ONU condannano intanto il tentativo di rovesciare l'ordine democratico. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Guterres, ha potuto anche parlare al telefono con il presidente Bazouma e la farnesina, in stretto raccordo con l'abbasciata italiana in Niger, monitora la situazione nel paese, dove sono presenti 170 nostri connazionali. Oggi la prima visita istituzionale negli Stati Uniti per la Premier Meloni, l'incontro con Biden, questa sera alle 21 ore italiana. Augusto Cantieni. La prima volta alla Casa Bianca, ma anche la prima volta di una donna italiana nelle vesti di presidente del Consiglio. Occhi puntati questa sera alle 21 ore italiane per il faccia a faccia Meloni-Biden. Sarà l'evento clou di una o due giorni a Washington, ricca di impegni per la Premier, che incontrerà prima i vertici del congresso, quindi la tappa al cimitero militare di Arlington e interviste con i media americani. Un viaggio che ha come l'obiettivo quello di accreditare Meloni agli occhi dell'alleato americano come leader stabile e affidabile. La posizione italiana al fianco dell'Ucraina contro l'aggressore russo in linea con l'esecutivo Draghi viene molto apprezzata dall'amministrazione Biden, a suggello delle ottime relazioni transatlantiche. resta il nodo degli scambi commerciali con l'Europa e la questione cinese per un passo indietro sulla via della seta. Da parte sua, la Meloni cerca una sponda fondamentale per un riconoscimento del ruolo che l'Italia vuole svolgere nell'Africa del Nord e nel Mediterraneo. Per due giorni, dunque, il Presidente del Consiglio si allontana dalle questioni domestiche concentrate oggi nella Prodi in Aula alla Camera del Salario Minimo. Restano le distanze tra maggioranza e opposizione nel mezzo un possibile dialogo motivo per cui la via libera al provvedimento dovrebbe slittare a settembre. In questo momento al Quirinale si sta svolgendo la cerimonia del ventaglio una tradizione legata al dono che la stampa parlamentare fa in questo caso al Presidente della Repubblica prima della pausa estiva occasione anche per fare un bilancio sull'anno di attività politica e parlamentare. daremo conto nelle prossime edizioni del telegiornale delle parole del Capo dello Stato. Alta tensione oggi a Gerusalemme nella spianata delle moschee dopo la visita stamani del Ministro della Sicurezza Nazionale e leader del partito di estrema destra ma ci aggiorna su tutto Alessandra Buzzetti. Buongiorno Alessandra. Sì, dopo i giorni caldissimi delle proteste contro la riforma della giustizia di cui il Parlamento ha approvato una prima parte già viene stata annunciata un'imponente manifestazione di protesta anche sabato sera a Tera Vista mattina Benvir, che appunto è ministro della destra radicale del governo è andato proprio a richiamare all'unità il paese nel luogo più conteso di Gerusalemme la spianata delle moschee che è il terzo luogo più sacro dell'Islam il monte del Tempio per i ebrei allora vediamo nel servizio la cronaca e anche le reazioni chiaramente della parte palestinese. Siamo tutti fratelli dello stesso popolo quando un terrorista guarda attraverso la finestra non ci separa l'unità è importante questo è il luogo più importante per il popolo di Israele e dobbiamo tornare a mostrare la nostra autorità così il ministro della pubblica sicurezza israeliana con la barba sfatta di prima mattina lancia sui social il suo video dalla spianata nel giorno in cui gli ebrei ricordano con lutto e il digiuno l'anniversario della distruzione del Tempio una provocazione da parte del fascista Bengvir reagisce l'autorità palestinese mentre Hamas annuncia di aver sparato un razzo da Jenin il confronto tra le fazioni palestinesi continua anche dopo l'incontro di ieri in Turchia da Erdogan del leader di Hamas del presidente palestinese Abu Mazen alle prese con un fronte interno sempre più complicato dove continuano i raid dell'esercito israeliano un ragazzino di 14 anni è stato ucciso nei violenti scontri scoppiati al Khalkia in seguito all'eruzione nel villaggio dei soldati israeliani Afghanistan il regime talebano continua a perseguitare le donne stavolta chiudendo i centri estetici così le donne afghane sono sempre meno libere e sempre più isolate Fabio Bolsetta una nuova misura soffoca ancora di più la libertà delle donne in Afghanistan la decisione del governo talebano di chiudere i centri estetici nel paese entra oggi in vigore si tratta di uno degli ultimi spazi di libertà e incontro rimasti per le donne afghane sto vivendo uno dei giorni peggiori più bui della mia vita totale delusione abbiamo iniziato il nostro lavoro con tanta passione ed entusiasmo ma purtroppo ora è tutto finito perché l'impiego femminile nei saloni di bellezza rappresentava anche una fonte di reddito essendo preclusi la maggior parte dei lavori ritribuiti il divieto riguarda 12.000 centri estetici dove lavorano 60.000 donne l'ultima di una serie di restrizioni imposte alle donne in Afghanistan da quando il controllo del paese è passato ai talebani dopo il ritiro due anni fa delle truppe statunitensi la settimana scorsa decine di afghane sono scese in strada per protestare ma le forze di sicurezza hanno risposto con colpi in aria e a terra con cannoni ad acqua per disperdere il coraggio di chi ha scelto di manifestare a Kabul contro l'ennesima restrizione siate missionari e entusiasti della nuova evangelizzazione lo ha scritto il Papa nel messaggio partecipante al Festival dei Giovani in corso a Medjugorje a pochi giorni dalla sua partenza per Lisbona per l'ormai prossima giornata mondiale della gioventù non ci sia posto nella vostra vita per l'egoismo né per la pigrizia detto ai ragazzi e con la giovinezza imprimete al tempo presente il segno della speranza e dell'entusiasmo 30 anni fa la strage mafiosa di via palestro a Milano in ricordo di Mattarella alle vittime innocenti di stragismo il differente pensiero della Repubblica quel piano eversivo della mafia fu sconfitto Luigi Ferraivolo nella notte tra il 27 e il 28 luglio 1993 Cosa Nostra fa esplodere tre autobombe una in via palestro a Milano due a Roma davanti alle chiese di San Giovanni il Laterano e San Giorgio al Velabro a pochi minuti di distanza l'una dall'altra con quegli attentati i corglionesi sfidavano lo Stato dopo aver ucciso Falcone e Borsellino l'anno prima il ciclo delle bombe del 93 era iniziato due mesi prima a maggio il 14 con il fallito attentato a Maurizio Costanzo e poi con la strage di via dei Georgofidi a due passi dalla galleria degli uffizi a Firenze terminerà il 23 gennaio 1994 con il fallito attentato allo Stadio Olimpico furono 10 le vittime della strategia della tensione mafiosa 5 a Firenze e 5 a Milano questa sera a Roma con una marcia notturna all'ora degli attentati Libera Condonciotti e la diocesi della capitale ricorderanno le vittime e le bombe non solo per il dolore delle persone ma anche perché le esplosioni romane furono una sfida alla chiesa capaci di orientare la cultura antimafia del paese infatti il 9 maggio 1993 cioè solo pochi giorni prima dell'inizio degli attentati Giovanni Paolo II nella valle dei Templi di Agrigento aveva pronunciato la sua storica omelia lanciando la sfida cristiana e mafiosi davanti a decine di migliaia di siciliani non lo dico ai responsabili non lo dico ai responsabili convertitevi una volta verrà il indice di Dio e la risposta della mafia non si fece attendere le bombe romane furono seguite a breve dall'omicidio di Don Pino Pugliesi il 15 settembre 1993 e di Don Peppe Diana il 19 marzo 1994 furono una punizione e un'intimidazione a tutta la chiesa oltre che una violenta reazione all'intervento del Papa ma alla fine dei cor leonesi non è rimasto nulla la terza ultima giornata di proiezioni al Gifomi Film Festival iniziata questa mattina con il film Rock Paper Grenade un lungometraggio in concorso che racconta la storia di Felix veterano della guerra in Afghanistan tra i tanti incontri dei ragazzi quello con il giovane rapper di Fegaccia ed è tutto per ora vi lascio al meteo all'ora solare grazie per averci seguito e a più tardi grazie per aver guardato